Lea Lo Whisper A.S.N.L. Ciao ragazze come state? spero bene forse ultimamente non mi ho fatto stare bene io mi dispiace però anche noi abbiamo bisogno ogni tanto di sfogarci allora smoking si smoking spiegazione che ci sarà allora questo video è un smr quindi non vorrei fare solo una parentesi dovuta dovuta in base ai vostri commenti e a qualche altro commento ok allora tendenzialmente quando noi mettiamo video non smr mettiamo proprio not smr perchè in modo che non non vi angosciamo perchè non sono contenuti rilassanti perchè abbiamo bisogno di sfogarci in base a questo nel video non smr qualcuno perchè è così stato scritto quindi ha espresso diciamo così la propria opinione che io avrei dovuto evitare del di parlare del mio personale con voi ma io con voi condivido tutto questo ti ho dato un po' che è successo perchè ci sono stati vari commenti mi dispiaciuto mi dispiaciuto soprattutto per le parole che si sono usate perchè intanto non mi piace non amo gli imperativi non li ho mai amati ci sono cose che si possono dire senza gli imperativi perchè non devi non è come dire non dovresti non devi un imperativo è il mio canale e io decido cosa e non cosa condividere con voi fermo ristanto che metto non smr per non turbarvi se voi aprite il canale non smr sapete sapete che non è un video rilassante però in quel video c'era ho aperto il video con scritto grazie a tutti per il vostro affetto di fronte alla mia sofferenza è tolto che non non mi interessa trovarmi su questi commenti che ci sono stati perchè che non condivido pienamente tanto che io ho sempre detto come persona io non sono una persona né costruita né falsa magari non mi si può capire mi si può fare una domanda se non si capisce qualcosa ma non sono una persona costruita non sono una persona falsa e quindi per le male dico le cose mettendo sempre in un smr quando i contenuti non sono rilassanti però non mi è piaciuto dire sentire più che altro commento leggere che ho avuto dislike oppure chiedendo per favore no ma non per me perchè di mezzo non c'ero solo io ma c'era dolore mio dolore di una famiglia e dolore di un'altra persona mi cara comunque un professionista quello dico e questo video poi sarà messo in privato per tutela perchè ci sono comunque questa situazione non si è fermata quindi ci saranno poi dei proseguimenti giudiziari giudiziari allora mi sembra giusto dirlo perchè voi mi avete trasmesso straffetto nonostante che la seconda parte non la capivate e quindi io qua vi dico chiaramente di cosa stavo parlando solo perchè è giusto mi sono stato fatto capire questo è giusto i vostri confronti quindi io stavo parlando di una cronaca durata 3 anni ma con una una conclusione che c'è stata 30 maggio di una condanna di delle condanne quindi parlo di Andrea Solti non è l'unico caso per quanto attreste la vicenda ci sono tanti però ultimamente e c'è chissà che lavoro facevo vi dicendo ci sono delle situazioni poco felici quindi in qualche modo la giustizia deve sentire in qualche modo deve condannare non solo chi e chi sono o possono essere colpevoli o possono essere stati ma anche chi non ha avuto tutto questo ruolo a differenza di ciò che ha comunicato la tv il mio segreto era soltanto appunto dire che io ho un psicoterapeuta per quanto un parente e e non tutelarlo per quanto mio parente perché ho un un rapporto personale ovviamente professionale quando ovviamente parlo delle mie istituzioni private ma perché io sapevo altre cose che la giudizione non dice quindi questa è la situazione che mi ha ferito perché altre persone sono state ferite tutto qua non voglio fare altri discorsi secondo 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 commento che vorrei dire questa persona che non nominerò perché comunque non ho già commentato e che non è che non mi si può dire sono cazzata torte che quando c'è la menopausa ci sono problemi ormonali ci sono altre cose oltre a fare un close up ma che non ho trovato idoneo confronto a una tematica cioè l'ho trovato insensibile cioè se la vostra youtuber comunque parla di un dolore che c'entra dire ma sei ingrassata allora sarebbe stato biologico aspettare un altro video e farei la stessa domanda chiedere perché mi si può chiedere anche quello però non nel momento che io parlavo di questi dolori di queste situazioni che peraltro mi avevano mandato in crisi di brutto anche con il canale che settimane ho avuto varie riflessioni quindi non capisco questi commenti che non sono per niente video cioè se io mi sto truccando e tu mi dici ti sei truccata male oppure ok è per niente video ma di fronte non solo a me ma a una famiglia a un professionista a quindi a una serie di persone che soffrono scrivere ma sei ingrassata cioè non è pertinente oltre a non essere sensibile non è pertinente però chiudo qua perché non voglio fare polemica è solo una cosa che io vi dico io sono una persona gentile e tutto quanto perché io sono così però io sono anche diversa probabilmente se mi fossi fatto mi fossi stato e tu e sto nella vita mentre io mi stavo magari sfogando con un amico mi sarebbe scappato qualche brutto termine magari a livello psichiatrico a dire ma che sei psicotica perché perché la psicosi è qualcosa che non si assogia più alla realtà nel senso che la nevrosi per quanto uno si può lamentare determinate cose sempre conscia e tiene e mantiene la realtà la psicosi no in questo caso e non volevo offendere questa persona ho fatto un esempio cercare di commentare inerente il video perché noi cerchiamo di rilassare voi e vogliamo ne ci piacciono i vostri commenti anche quelli negativi spero che siano attenuti in video quello che un video non smr sono prescritto smr e non smr e e non è io non accetto io accetto un dislike io accetto sempre tutti i dislike da 4 a 6 in ogni video mica si può piacere a tutti però c'è una sta parlando di un dolore e tu dici ma sei ingrassata a partire che quando si fa il close up tutto viene ingrandito ma a differenza di quello potevo scrivere anche il mio peso però non l'ho trovato pertinente tutto qua chiudiamo questa parentesi bene allora allora dunque vi vorrei dire alcune cose allora prima sappiate il mio cellulare è sempre attivo prendete conto che di solito dalle due mezza alle tre io comunque vado a mettere anche se so colorizzo no e che non posso io sono sempre attiva sempre disponibile rispondo su video commenti o su instagram così no però è vista anche una vita privata quindi se non vi rispondo se mi scrivi di aver un oratore in continuazione può essere che non ce la faccio perché comunque ho anche lavoro da svolgere quindi non me la prendete questo questo è un pennello che è un un pennello per stendere in make up che anche questo sto usando io una collezione di fondotinta intensamente intensamente liquido intensamente liquido anche se ingi non ingi perché lo sapete come la penso e quando devo scherire il viso per fare un determinato troppo io farò di uso termacoli che praticamente può essere calci bianca molto chiaro ma io lo voglio scherire adesso non posso fare determinati trucchi poi vorrei rispondere a una persona ma tanti di voi lo chiedete però c'è stata una persona che me l'ha chiesto se grazie che mi ha fatto i complimenti qui ando facendo meglio se non potevo migliorare qualità del video purtroppo adesso no perché per migliorarla eh significherebbe acquistare una nuova webcam o meglio una telecamere e non me la posso permettere perché se anche vi dico che lavoro adesso faccio tecaterapia ma sono via cioè questo la differenza che dopo ve lo posso dire eh visto che non lavoro a dipendenza insomma vado su 20-25 euro quindi devo comunque sia lavorare tanto vi dico anche questo anche l'ultimo microfono che vedrete con i suoi accessori prossimamente dopo è stato con i miei soldini non ho avuto nessuna donazione ho avuto delle donazioni inizio ottobre 2017 poi non ho avuto alcuna donazione quindi pensate che tutto quello che prendo da una cosa che uso i miei soldini è che youtube anche se per contratto noi non possiamo dire quanto veniamo remunerati non è perché prendiamo 3.000 euro che non possiamo dirvelo ci siamo forse di incontrare è perché prendiamo una cosa singola ma è proprio un contratto ci sono delle clausole che non si possono dire io vi ho sempre detto che in pratica io faccio video per hobby e non per lavoro perché se no per lavoro ci sarebbero tante cose in più il fatto che però in un pubblico video non è che dipende perché io faccio i video per hobby e perché proprio non ho tempo ci sono 3 settimane dopo comunque la tecaterapia include tecchi continui e quindi io mi trovo a dormire 3 ore per notte e e poi dopo 3 ore iniziare a lavorare quindi io ho un serio problema però però visto che siamo andando a luglio la prossima settimana avrò molto più tempo e poi la settimana dopo penso di prendermi la settimana di pausa perché devo fare vari esami varie visite che sto rimandando e che sono importanti invece e sto iniziando una nuova terapia quindi avrò più tempo per voi quindi insomma il problema della mia assenza è stato dovuto appunto chi era capitato da questo da questo video non a essere merve che è cioè dire mi ha buttato in crisi è vero mi ha buttato in crisi perché insieme a questi ho avuto privatamente insulti privatamente ringrazio chi mi è stato vicino con il bacino e insomma ci stanno anche le crisi no? è una cosa una cosa normale però poi quello che vince siete voi siete voi che mancate e non è una frase fatta anche se la sentite perché voi mancate seriamente voi mancate seriamente con le vostre parole e io quasi immagino le vostre espressioni quindi se una persona ha il 1 a meno 20 fa comunque anche un video semplice di certo non lo fa per lavoro e allora veramente devo ancora mangiare come il solito e perché vi vuole bene quindi cercate di capire che cioè se io forno tra fuoco ve lo prometto lo metterò sul secondo canale piuttosto però è bello sentire qualcosa di interessante per te non era il caso due dislike solo perché subito ti vedete sorridere ma io sono una persona umana abbiamo ragionate allegre oltremeno il quanto più impediti più crisi più difficili diciamo così possiamo sorridere con gli occhi ma non col cuore io con voi voglio speed con tutti e due allora e questo sarà un video breve per quanto siamo già 19 minuti per dirvi che pubblicamente lancio un video ASK quindi dovete scrivere e leggere l'info box ASK 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 un video con tutte le vostre domandine e voi per ognuno di voi potete scrivere quante domande volete e io vi risponderò felicemente la seconda cosa la seconda cosa è che lancio in questo video un piccio del casareggio va bene anche insomma non eccezionale il getaway un getaway che termina il 5 agosto si raggiunge i 5.000 iscritti perché così sta grazie per i 5.000 iscritti perché le cifre tipo 4 e 9 qui comunque grazie a tutti perché sono enormemente contenta è una cifra è una cifra a metà quindi per le donne avevo già detto che avrei fatto un rossetto della MAC nude perché quello diciamo che un po' piace a tutti comunque si intona abbastanza e vari incarnati per quanto riguarda gli uomini mi devono scrivere se vorrebbero provare i fattori di amo se preferiscono qualcos'altro insomma la loro preferenza perché io non mi so più sempre complicate diciamo così anche se dicono che le donne sono molto complicate penso quindi leggete l'info box che ora scriverò se non avete seguito completamente tutto il video che lo scrivo nell'info box e poi sotto in modo che voi andate a leggere l'info box le regoline ne sapete le mie sono tanto semplici perché bisogna essere scritte cioè se io sto lanciando il getaway a partire da stasera ovviamente bisogna essere scritte un mese prima nel mio canata nel mio canale o comunque insomma non avete il giorno prima però non dal giorno che io lancio il getaway ok dopo essere scritte a facebook se avete facebook oppure instagram fatemelo sapere queste sono le semplici regole un commento magari se mi fate un commentino un pensierino felice sarei contenta in questo periodo eh qualunque cosa potete fare 4 commenti a vostra scelta che io non discuterò nel senso che non vi risponderò quel commento perché lo leggerò e poi lo riprenderò nel dopo dopo alla fine cioè del getaway per quanto il quarto video asca che lì diceva se sta regola o meglio non vi risponderò di se non con un cuore vicino o con un piccolo 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 commentino perché poi vi risponderò nel video asca adesso quello che sono i video in programma allora sto andando piano piano un po' sono un po' un po' polentina perché la ripresa è molto lenta e quindi quello che tenderò a fare strano scusate i rumori ma non posso fare niente saranno dei dei video in cui ovviamente ero blessa ma è difficile per me in questo momento quindi cercherò i video che vedrete sono quelli che riuscirò a sentermi di fare ma poi dopo riprenderò tutte le vostre richieste non vi preoccupate dovete darmi solo un pochettino di tempo bene allora facciamo così adesso che vi saluto vi faccio una conta con un reputation worth magari di parole che non capirete così per augurarvi una dolce buonanotte allora chiudete chiudete gli occhi chiudi gli occhi per favore che ti faccio le grazie di me ti prego gli occhi io ti mando tanti pagini e cerco di farti addormentare se ci riesco in pochi secondi si arriverai la vita nel video non ti dimenticare se ti è rilassato questo video ti ha giocato compagnia di mettermi grazie un like oppure just like se non ti è piaciuto chiudiamo gli occhi chiudi gli occhi per favore chiudi gli occhietti adesso iniziamo uno tre quattro cinque tre sette otto nove dieci tre 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 turtle oppure lentig distur una volta qui ff ちら ff uch t maps uch 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 tro 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 Sì. ok deve essere la mia la mia la mia la mia la mia è sentita la mia la mia sccce enslaved parabra Sì Tante 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 Torno duele, 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 duele quindi no 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 da da diventa insomma insomma c'è torri bene che è stato Lea Low Whisper on XMMM